E' arrivata nel porto di Salerno a Itamari con 171 migranti a bordo. Le operazioni di sbarco hanno avuto luogo domenica presso il molo 3 gennaio del porto commerciale. A gestire l'organizzazione il prefetto Francesco Russo, il questore Giancarlo Conticchio, l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto e l'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi. Ognuno di loro ha svolto un ruolo di primo piano nell'accoglienza e nell'assistenza dei migranti. Sì, abbiamo visto che la nave è piccolina, sono stati presumibilmente stretti sulla nave. Noi siamo in grado comunque di dargli un'accoglienza molto dignitosa e anche idonea dargli la prima assistenza non solo di carattere sanitario ma anche di sostentamento, quindi di carattere umanitario. Io ringrazio sempre molto la Caritas di Salerno, la Caritas Sitteggiano perché veramente ci danno sempre un supporto importantissimo in questi casi. Poi c'è tutto il sistema della protezione civile regionale, le aziende sanitarie di Salerno, la Croce Rossa, tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, la guardia costiere e tutti i vari operatori del porto. È un'operazione che comunque comprende la necessità di impegno da parte di tutti, per cui chiaramente è necessario che le cose vadano a posto, ma abbiamo verificato, ho riperificato stamattina che tutto è stato predisposto per il meglio. Poi avremo la fase di identificazione a capitolo San Matteo, come me è tradizione, diciamo, degli ultimi sbarchi e poi saranno sistemati i nostri migranti praticamente in una serie di strutture, sia i minori non accompagnati, sia i neonati o i piccolini con le mamme, sia chiaramente tutti in strutture in parte nella provincia di Salerno, in parte nelle altre province della Campania. Le operazioni di sbarco sono iniziate con i controlli sanitari a bordo, seguiti dallo sbarco delle persone in condizioni di salute critica. Fortunatamente nessun migrante è risultato positivo al Covid-19 e non sono state rilevate situazioni particolarmente gravi. Comunque sono tutti africani praticamente, parecchi, Burkina Faso, ricordo, Mali, quindi vari, quindi sostanzialmente anche etnie diciamo abbastanza simili tra di loro, quindi diciamo anche la parte di comunione, questa è abbastanza facile, per cui noi abbiamo, vabbè, in qualche modo fa parte anche della routine del lavoro e dell'organizzazione. Noi accogliamo migranti anche non provenienti dal porto di Salerno e c'è sempre un sistema ben rodato e un buon livello di accoglienza alla nostra provincia. I migranti provenienti da diverse regioni, tra cui la Costa d'Avorio, il Mali, il Gambia, il Benin, il Senegal, il Camerun, la Guinea e il Burkina Faso, verranno accolti nei centri d'accoglienza dei vari comuni della provincia, tra cui Bracigliano, Battipaia, Corletto Monforte e Padula. Io sono molto grato all'assessore Paola De Roberto, che è riuscito a metterci a disposizione la struttura che ha integrato i posti che comunque avevamo già trovato, anche con l'assistenza del Comune di Salerno che ha strutture sai sul suo territorio. Poi chiaro i minori stanno aumentando, però tenga conto che in breve tempo noi abbiamo già dei contatti, è un lavoro continuativo che prevede anche contatti con Roma, insomma coordinamento da parte di Roma, abbiamo già, diciamo, come dire, in pochi giorni noi porteremo questi minori che saranno temporaneamente e straordinariamente allocati presso la scuola, presso i centri dove devono andare.